Scricchiola, avete una pistola? Pensavo di svaliggiare la casa. È questo che intendete fare? Ora non più. Ah, bene. Allora suppongo che sia cortese offrirvi una tazza di tè. Voi rubate? Sì, mi capita di farlo ogni tanto, ma ultimamente c'è qualche divergenza con un vecchio capo. Peter Lake, lo voglio uccidere e voglio che resti morto. Qual è la cosa più bella che avete rubato? Comincio a credere di non averla ancora rubata. Tu sei incredibilmente bella. Che legame avete con Beverly? Conoscete i suoi problemi di salute? Sta morendo. Se non mi ami tu ora, nessuno mai mi amerà. Corrompo anime e mando in frantumi miracoli da più tempo di quanto possa ricordare. Il tuo è il genere di amore che rende il mondo caldo e luminoso. Un amore che la potrebbe salvare. Ma tu non salverai nessuno. Scusami, signore. Tutto a posto? Io sono Abby. Tu come ti chiami? Non lo so. Non ricordo più nulla da quando ne ho memoria. Grazie per l'aiuto. Beverly si chiamava Beverly. Ma cosa sta succedendo? Perché tenermi in vita? Forse c'è qualcosa che devi ancora fare. Non è né un angelo né un demone. Come mai è ancora vivo? È possibile amare qualcuno così profondamente da non farlo morire? Sei in ritardo. Sai, Peter, le cose accadono per chi ha destino. Fai, Joe, le cose accadone per chi ha destino. Grazie a tutti.